Una buona notizia arriva dal comune di Salento. A comunicarla in una nota su Facebook è il sindaco Gabriele De Marco. Non ci sono rifiuti pericolosi, speciali o addirittura radioattivi nel comune di Salento. Il primo cittadino fa riferimento ai rifiuti sotterrati per una superficie di 50.000 metri quadrati a balloscalo nel comune di Salento, ritrovati nei mesi scorsi dalle forze dell'ordine. I risultati delle analisi dell'ARPAC hanno dato esito negativo. Sospiro di sollievo dunque per i cittadini del comune cilentano e non solo, visto che la vicenda ha tenuto sulle spine l'intero comprensorio. Nei mesi scorsi controlli aerei con sensori termici, magnetometrici e radiometrici erano stati effettuati su ordine del ministro dell'ambiente Sergio Costa per rilevare la presenza di rifiuti interrati anche in altri comuni cilentani. La vicenda si chiude positivamente per il comune di Salento e i suoi abitanti.